Ghiabbo ma chi rappresenta quest'opera raccontami un po' ma è palese guarda qua sei uguale questo sei tu finalmente sei entrato nel mitico mondo dei profili di Ghiabbo e questo è un profilo dedicato esclusivamente a te e quindi l'ufficiale del Corpo Militare della Croce Rossa che ritratto lì dentro sono io poi a questo punto esattamente e l'ispirazione è nata da te perché come porti tu l'uniforme mi ha ispirato il profilo allora un grazie universale a Ghiabbo per questo immenso regalo che mi ha fatto a presto